Sono Martelli Andrea, responsabile marketing della Garvan, noi siamo un'azienda di produzione di diffusori acustici da Redo. Sono tutti prodotti completamente costruiti in Italia, sono prodotti che spaziano come materiali, come finiture e sono principalmente indicati per ambienti moderni. Abbiamo diffusori in ceramica, con finitori in acciaio inox, laccati e sono tutti customizzabili. Utilizziamo componentistica di livello alto che costruiamo proprio su nostre specifiche, interamente in Italia anche quello, quindi dal mobile all'altoparlante è un diffusore made in Italy. Sull'incasso siamo stati i primi ad inventare un prodotto veramente a filo, che è sporci proprio di 0 mm rispetto alla parete. Anche lì le personalizzazioni sono infinite, dal prodotto che tende a sparire, quindi con una cover estetica che è magari in tinta con la parete, a una cover che può essere, non so, con il bordo in acciaio per simulare un faretto. Poi spaziando abbiamo prodotti per l'outdoor, quindi prodotti anche costruiti in materiale Corian, che possono essere laccati, prodotti con finiture anche effetto corten, quindi quel simile aruginito, a prodotti per l'outdoor on wall e in wall. Sul prodotto on wall abbiamo una gamma completa per soluzioni che spassano dalla sonorizzazione all'home cinema. Il prodotto più particolare per noi è sicuramente la goccia, il primo prodotto di cui ho parlato, che è il prodotto diciamo il più casereccio, perché è fatta con la ceramica di Faenza, quindi è proprio curata da esperti artigiani che veramente esistono quasi solo nel faentino. Questa sicuramente in ambito europeo è la fiera migliore, è la fiera che riassume quello che è la System Integrator probabilmente nel mondo. Ci crediamo fortemente a questo progetto, già è il secondo anno che partecipiamo. Devo dire che siamo contenti, ci sono affluenze di pubblico, di pubblico professionista, quindi System Integrator, distributori, che sono quelli poi i nostri principali clienti che poi vanno a vendere il prodotto al pubblico.